Perchè sono qui Isonia Dove voglio andare La risposta non c'è Io ancora dormo A un suono felice La risposta non c'è Viene Ancora Io ancora Ora dormo A un suono felice Perchè sono qui Isonia Dove voglio andare La risposta La risposta La risposta Non c'è La risposta Questa è Questa è Grazie a tutti. Grazie a tutti.